Tre punti da conquistare in battaglia per continuare ad inseguire la Serie A. Il Palermo fa tappa a Cittadella per la 36esima giornata del campionato Serie B con T.it. I rosanero sono reduci dal doppio pareggio casalingo con Pescara e Cremonese. A sette giornate dalla fine è il momento di dare una sterzata decisiva alla stagione in una gara non semplice come quella di questa sera. In questo momento qui sono sette finali, dobbiamo usare poco il fioretto, molto la sciabola, ma non in termini esclusivamente di mezzo, ma con la mentalità di una squadra che non deve regalare niente. Calcio d'inizio alle ore 20 e 30. Appuntamento sul nostro profilo Twitter per il live match dello stadio Tombolato. Arbitrere all'incontro Luigi Nasca di Bari. Grazie a tutti.